Non è vergogna di mettere il perito, certe volte chi ha vergogna di mettere il perito lo mettere il fumicidio e fa più pericolo che come una bomba atomica che si può scappare dentro meglio mettere il perito con lo scruscio, in senso che quando è col rumore che si mettere con lo scruscio il perito, diciamo che fa il perito un bello serrato, non fa puzza perché è un perito genuino un perito veramente che tu lo butti con una buona digestione, una buona volontà è una cosa naturale quando si trattengono i perito, è pericoloso, potete avere un infarto in corso nello stomaco tante persone subiscono infarti che incominciano dal stomaco per trattenersi il perito non ci scherzate posso